Le bollette Tari sono palesemente sbagliate, almeno la maggior parte di esse. Lo sostengono i consiglieri del PD ragusano Mario Chiavolo e Mario D'Asta, secondo i quali l'amministrazione comunale deve prendere atto di quanto sta accadendo, organizzandosi nella maniera più opportuna. Quindi occorre ritirare le bollette palesemente sbagliate. L'unica soluzione, allo stesso tempo, prorogare quelle ritenute corrette per fornire ai cittadini più tempo, considerato che la situazione economica della maggioranza delle famiglie non è semplice. Per i due consiglieri PD ci sono troppi episodi, quindi e troppi casi, per quello che è stato possibile appurare, che meritano di essere verificati. Gli uffici non ce la fanno, infatti, a sostenere tutta questa mole di controlli, ma bisognava organizzarsi prima. Il sindaco e il suo ossessore quindi ne prendano atto e si organizzino nell'unico modo possibile, che è quello di fermare un circo tributario che sta creando imbarazze e tensione ai cittadini, così come ai dipendenti comunali. Sia Chiavolo che D'Asta hanno infine annunciato una specifica iniziativa consigliare. Grazie. 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 Grazie.